Una chiesa di San Francesco gremita fatto da cornice al taglio del nastro a Gualdo Tadino per la mostra ai pittori dal cuore sacro ideata da Vittorio Sgarbi per la direzione artistica di Katia Monacelli, direttore del polo museale di Gualdo Tadino. Una rassegna di scena fino al prossimo 31 dicembre allestita in modo pregevole che mette in vetrina tanti pittori naif per un genere che il critico d'arte ferrarese ha illustrato nel corso della presentazione. Non sono artisti minori ma solo personaggi che non gravitano intorno ai circuiti consueti del marketing artistico ha detto e la sorpresa della conferenza di presentazione che ha visto la presenza e il saluto introduttivo del sindaco di Gualdo Tadino Presciutti e del parlamentare Umbro Verini è stata proprio la presenza di uno degli artisti espositori Bonaria Manca che alla veneranda età di 92 primavera per la prima volta da tre anni è uscita dalla propria abitazione di Tuscania. Lei che pastora fin da giovanissima si è trasferita in Tuscia da mezzo secolo trovando in una terra di fertile ispirazione. Bonaria Manca guida la sezione contemporanea ma non mancano firme illustri anche per la sezione storica come quella di Ivan Rabuzin. Un evento perché stiamo presentando al grande pubblico non solo degli artisti storicizzati già noti come Ivan Rabuzin e Ivan Generalic per quelli che amano l'arte primitiva sicuramente sono già nomi noti ma stiamo presentando al grande pubblico un artista Bonaria Manca che Vittorio Sgarbi ha assolutamente detto che sarà a breve famosa come Ligabue. Ovviamente Bonaria ha replicato dicendo che a lei non piace Ligabue e che Bonaria Banca e Bonaria Manca e poi lei non ama la vanità però io credo che la sua la sua cifra sia arrivata in questa mostra le sue opere sono meravigliose e farà parlare sicuramente di sé. Vittorio Sgarbi nella sua accattivante presentazione non senza qualche battuta stilettata a politici e istituzioni è tornato anche sul felice connubio con Gualdo Tadino culminato nella presenza di tre opere del Polo Museale alla mostra evento Tesoro d'Italia allestita Expo 2015 fortemente voluta dal direttore del Polo Caltia Monacelli. Non ci hanno dato i bronzi di riace per Milano perché erano fragili ha detto Sgarbi eppure siamo riusciti a portare a Gualdo Bonaria Manca che sicuramente è più fragile di loro. E nell'intervista rilasciata a TRG Sgarbi ha anche anticipato una notizia che istituzione comunale e Polo Museale ancora tenevano in serbo e che guarda già al 2016. Quindi una buona esperienza che potrà culminare continuando su questo filone con una mostra importante degli autori che ho portato pure nell'ambito dell'Expo che sono Ligabue e Ghizzardi per cui è prevista una mostra per vedremo in che misura farla. Qui a Gualdo, qui a Gualdo. Ligabue a Gualdo nel 2016. Sì, presumo che sia visto che questa finisce il dicembre come continuazione di quel percorso che parte dal concetto di Naif ma cercare di declinarlo attraverso personalità che abbiano una densità e una spiritualità e un cuore sacro che forse esce dal limite del concetto di Naif. Nel corso dell'incontro è stato anche trasmesso il video documentario dedicato a Bonaria Manca, fresco vincitore del concorso di corti a Tuscania Festival e prossimamente in onda integrale sui canali Sky. Questo rapporto con Vittorio Sgarbi e con questa parte fondamentale anche dell'economia credo che debba proseguire. Noi saremo in prima linea anche nei prossimi mesi per portare a casa dei risultati importanti non solo per Gualdo Tadino ma per il comprensorio e per l'Umbria. Grazie. Grazie.